Il Master sull'autismo è nato dall'esperienza clinica di quello che abbiamo denominato Progetto Tartaruga, che è un programma di valutazione e terapia. È il modello italiano, un modello evolutivo, psicodinamico, che si pone l'obiettivo di fare delle valutazioni specifiche per ogni bambino, perché il punto di partenza è che ogni bambino è diverso dall'altro ed è necessario cucire addosso un programma terapeutico. Di questo, del modello italiano del Progetto Tartaruga, si dà ampio spazio all'interno della formazione dei nostri psicoterapeuti, che sono appunto poi portatori all'esterno del modello, e oltre a, come dicevo, il Master annuale, che è fatto per operatori di varia formazione, perché l'obiettivo è, quindi, medici, logopedisti, eccetera, perché l'obiettivo è quello di ampliare la conoscenza dell'autismo che ogni operatore potrà poi convogliare nella sua specificità.